Ciao a tutti! Oggi andremo a aprire questo pacco che è molto grande, adesso lo apro, lo scenderò giù perché è molto grande, non entra qui sopra, poi vi farò vedere le cose che sono arrivate ora. Ecco questo è il pacco che mi è arrivato da accessorielli.com Tantissimi materiali da lavorare per l'occasione del Natale, alcuni sono già prenotazioni per idea regali. Vi faccio vedere tutte. Abbiamo qui i laterali molto belli, guardate come brilla. Questi sono materiali in ecopelle, qui c'è la chiusura che è stata coperta per non rovinare e questa è la patella. Quindi avrete la patella, due laterali e qui si aggancia la catena per portarla a tracolla. Qua ci sono vari colori, guardate quanto è bella. Scendo giù il pacco e continuiamo. Ecco questo è un altro, guardate quanto è bella. Lo abbiamo anche in questo dorato leggero, guardate quanto è bella questa chiusura. chiusura gioiello. E abbiamo anche qui i due laterali. Abbiamo anche questa gentata. con due laterali. Abbiamo qui questa firiola, sempre con la chiusura gioiello, con gli altri due laterali. quindi potete scegliere i colori che vi piacciono. guardate qui, ci sono la tracolla per ogni kit. Questi sono per questo qua. Questo kit va abbinato con la tracolla, questi che hanno la catena qui. metto la tracolla che vedete qui. Sono per i kit, porto cellulare che vi farò vedere in questo momento. Eccoli, sono qui. Sono portacellulare. Ecco, abbiamo la patella, il fondo. Guardate quanto è carina. E poi l'altra colla che sarebbe questo qui. Vedete? Guardate quanto è bella, quanto brilla. È un'idea regalo. E anche la chiusura che va cuscita alla borsa. Perché alcuni hanno la difficoltà di applicare questa parte della chiusura a girello alla borsa. Quindi così è più facile da fuggire. Abbiamo anche questo qui. Molto bella. Questo colore qui. Ci sono tantissimi colori da scegliere. Abbiamo questi qua. Quindi ognuno ha il suo gusto. Guardate. E vi dico che sono economico. Guardate questo. Con il suo fondo. Questo. E' dorato con il suo fondo. Ci sarà il tutorial per queste borse qui. Ora uno ciascuno dei kit. Qui abbiamo viola. E qui abbiamo questo qui. Che è molto bella. C'è anche questo in ecopelle. Ci sono anche in pelle. Per chi vuole realizzarli in pelle. Si può anche prenotare a secondo i gusti. Pelle stampate in cocco. Ecopelle. Pelle brillante. Secondo quello che desiderate. Guardate. Molto bella per idea regali. Siccome Natale sta avvicinando. Dobbiamo portare le cose per regali nostri cari. Qua ci sono gli annelli di a mezzaluna. Per agganciare le tracolle. Adesso vi faccio vedere. L'ultima patella. Che sono in argento. Colore argento. Questi due qui. E hanno sempre dei brillantini. E hanno sempre dei brillantini. Guardate. Non so se si vede. Dei brillantini. Ok. Abbiamo terminato sia con i portacellulari. Anche con pochette piccoline. Per idee regali. Magari più tardi vi farò le fotografie. E metterò su Facebook. E su altri social. Le tracolle. Le tracolle sono molto belli. Vedete. Le tracolle. Hanno dei mostrettoni. Per portarla alla spalla. Adesso vediamo questo qui. Allora. Vediamo qui. Che questo. È un kit. Che assomiglia. Stile. Mississili. Guardate quanto è bella. Ha la chiusura calamita. Guardate. Qui. E anche questa fascia. Con questo. Decorazione. Il manico. normale. Per portare a mano. Salva spalla. Con la catena. Per portarla alla spalla. Ci sono i moschettoni. Che possiamo. Sganciare. O ganciare. Quando noi vogliamo. Ed è dotato di. Un fondo. Guardate una cosa qui. Che. I kit. Vengono fatti. Sia dall'interno. Dall'esterno. Ed è foderata. Con i camoche. Dentro. Quindi. Guardate. Ci sono anche i piedini. La stessa cosa. Ci sono qui. Guardate. Sono tutti. Da dentro. Da fuori. Foderata. Con la pelle. Queste. Con i camoche. E questo. Un kit. Sicili. Un po' diverso. Dove. E ne abbiamo anche. Il colore. Dorato. Qui abbiamo il fondo. Troppo bella. Guardate. Anche all'interno. c'è la pelle c'è anche un altro fondo con la misura diversa perché ci sono varie misure a secondo come richiede il cliente questo è uguale all'altro rosso come c'è il Natale la gente piace dorato rosso abbiamo anche il film dorato guardate quanto è bella questa pelle salva spalla e il fondo qui abbiamo questa striscia va utilizzata con questo fondo che sarà un shopper che avrà i suoi manici da 65 cm quindi vedrete tutto questo tutorial prossimamente anche se da un bel po' che non faccio il tutorial per i vari motivi adesso riprenderemo ad avere il tutorial in queste bolsa che farò ci serviranno anche delle rette canvas quindi ci sono sia dei colori bianchi anche colori neri ci sono bianchi e neri come i colori di questo plastic canvas che è una rete canvas che sostiene di più i lavori per irrigidire corpo borsa adesso vi faccio vedere vari cordini che serviranno per lavorare tutte queste cose che avete visto questi sono cordini italiano 100% lurex e questo è il tripolino 2.0 guardate si vede i brillantini quindi a secondo i kit abbinerò il cordino adatto e questo guardate ci hanno sempre i brillantini e questo un cordino normale senza abri i lampini sempre cordino tripolino 2.0 abbiamo qui guardate che bella questo è dorato cordino tripolino abbiamo pure qui altri cordini tutti a vari colori che utilizzerò per realizzare questo qua che vedete c'è anche rosso ci sono vari colori quindi potete chiedere l'informazione seguendo il link che vi lascerò sotto ho anche il numero di whatsapp ho anche il link di facebook di accessorieli punto com perché il sito in questo momento la stanno aggiornando magari quando finiranno si può anche comprare direttamente dal sito se no mandate messaggi privati su messenger cercando accessorieli qua abbiamo anche il cordino lurex tripolino questo è argentato qua ci sono i tripolini per i lavori ci sono tanti lavori da fare in questo momento ho anche i manici in bambù che seguirà per un lavoro che ho fatto tempo fa che mi richiedono sempre che la borsa è una borsa semplice ma sempre bella ci sono borse che non vanno mai fuori moda ci sono altri cordini questo è colore prugna rosso argentato tipo dorato leggero questo biscotto e poi l'ultima che vi farò vedere una cosa più bella che magari tutti cercheranno di fare è questo qua per fare i regali natalizi questo è l'interno per un portafoglio quindi andremo a realizzare l'esterno che porterà la parte dove metteremo le monete e più rivestiremo tutto con questo più la cintura per la chiusura del portafoglio quindi è un progetto semplice che sarà alla portata di tutti e poi è un bel un bel oggetto per fare i regali natalizi anche il porsino per poter portarla così questo è un piccolo set e farò anche i tutorial per questo spero che quest'idea di queste cose che vi ho fatto vedere sia a vostro gradimento ci vediamo presto per i vari tutorial non dimenticate di iscrivervi al mio canale di invitare i vostri amici lasciate anche i commenti sopra secondo i vostri suggerimenti ci vediamo presto ciao ciao